Grazie mille, buonasera a tutti, è un grande onore e anche una grande emozione essere qui da questo lato del tavolo. Volevo ringraziare tutti per essere qui con me oggi pomeriggio e anche le persone che si sono collegate online per seguire la mia conferenza. Come già preannunciato, una parte di questa conferenza è dedicata al premio Nobel per la chimica 2022, in particolare al premio Nobel che è stato dato all'americana Caroline Bertozzi che è una persona di grande valore scientifico ma anche di grande valore umano. Io ho avuto la fortuna di conoscerla qualche anno fa, molto prima che lei vincesse il premio Nobel e devo dire che sono anche sempre stata molto ispirata dal suo lavoro e in qualche modo il suo lavoro come vedrete durante la presentazione è sicuramente stata ispirazione di una piccolissima parte del mio. Nella mia modestia vi farò vedere anche in che modo appunto queste due parti sono state collegate. Innanzitutto volevo dirvi due parole su chi è Caroline Bertozzi. Caroline Bertozzi è un'americana, è nata vicino a Boston, a Lexington, è nata nel 1966, ha studiato chimica a Harvard e dopo un periodo appunto fatto a Harvard per ottenere quello che è il master americano è andata a fare il PhD a Berkeley. Dopodiché è stato un periodo come postdoc all'Università della California San Francisco ed è quindi ritornata a Berkeley nella facoltà come professore prima associato e poi ordinario e attualmente è a Stanford, quindi lavora all'Università di Stanford ma è anche un direttore dell'Award Hughes Medical Institute. Se uno va a guardare appunto qual è stata la motivazione per questo premio Nobel che ha condiviso con due grandissimi scienziati, due chimici che sono Barry Sharpless e Morten Meldal, si legge in inglese per lo sviluppo della chimica click che purtroppo in italiano è stata tradotta in maniera orrenda perché la parola click è stata tradotta a scatto, adesso vi spiegherò il perché, è per la chimica biortogonale e come appunto già annunciate, voi sapete bene, dal 2021 è stata anche membro dell'Accademia degli Incei, quindi è un grande onore averla con noi, parte di questa accademia. La grande visione di questa scienziata è stata quella in qualche modo di coniugare la biologia con la chimica. In realtà se io penso a fare una reazione di sintesi organica o inorganica, penso immediatamente a una beuta, quindi penso senz'altro di fare la mia chimica in un contenitore ben definito perché posso controllare le condizioni. In realtà la stessa reazione si potrebbe fare forse in cellula ed è proprio questo che la Bertozzi ha tentato di fare, ha tentato di coniugare una chimica di sintesi all'interno dei sistemi viventi. Ed è proprio di questo che vi voglio parlare perché secondo me è stata, devo dire, una grande rivoluzione scientifica perché lei ha usato una chimica in realtà che era già stata sviluppata anche quasi un cento anni fa, tuttavia appunto l'ha fatta in dei contenitori che sono molto più complessi della nostra beuta o del nostro palloncino e soprattutto possono raggiungere complessità enormi se passiamo dalla cellula poi a un sistema vivente. Quindi diciamo quello che lei si è chiesta è come possiamo controllare delle condizioni che sono più o meno facili da controllare in un abeuto o in un sistema chiuso, quali appunto quelli che noi siamo normalmente come chimici nei laboratori e passare appunto a un sistema totalmente indefinito se vogliamo dove è difficile controllare sia alla temperatura ma anche proprio le condizioni di reazione in un sistema che è un mezzo così complicato. Ed è chiaro che se ci spostiamo dalle cellule già a un animale molto semplice quale il pesce zebra o zebrafish, la complessità aumenta ulteriormente per diventare poi sempre più difficile il controllo quando andiamo nelle cavie di laboratorio o addirittura sull'uomo quindi sui pazienti. E quello che vi voglio fare vedere diciamo in breve oggi è proprio come lei è riuscita a pensare una chimica all'interno di sistemi viventi. E qual è la difficoltà allora di lavorare appunto dentro una cellula? La prima difficoltà è quella che è necessario usare una chimica che non solo deve poter diciamo essere realizzata in un mezzo che è poco controllato ma soprattutto deve essere diciamo pensata in modo tale che i componenti non vadano a reagire con nessuno dei componenti del sistema biologico. Quindi in qualche modo non ci deve essere una reattività verso il sistema per esempio cellulare e non devono neanche interferire con i processi biologici perché altrimenti altereremo completamente la situazione all'interno della cellula. Quindi è necessario trovare dei gruppi funzionali che in qualche modo non si trovino nei sistemi biologici naturali che non esistano all'interno del nostro corpo, all'interno delle nostre cellule. Ed è proprio questo quello che diciamo lei ha inventato e la motivazione del suo premio Nobel in quanto lei è riuscita diciamo a coniugare questa biologia con una chimica che è realizzata in organismi viventi e viene chiamata chimica bio-ortogonale proprio per questo motivo perché riutilizzerà dei componenti che vi farò vedere tra un attimo che non possono interagire se non l'uno con l'altro e non interferiscono completamente nel sistema biologico. Qual è stata la sua prima sfida? E se uno va ad ascoltare il film che lei ha registrato in occasione del suo premio Nobel devo dire è un film veramente illuminante che consiglio a tutti di vedere perché lei dice giustamente che la sua prima sfida è iniziata al secondo anno di dottorato. Quindi quando lei è andata a vedere una relazione di un tedesco molto famoso e ha capito che si potevano funzionalizzare gli zuccheri. E perché questo è stato molto importante? Perché in realtà lei ha scoperto insieme ad altre persone che nel momento in cui noi riusciamo a mappare a capire quali sono i cambiamenti degli zuccheri sulla superficie della cellula possiamo anche capire come viene sviluppata una malattia o addirittura come procede ad un tumore. Quindi all'inizio della sua carriera uno dei suoi obiettivi era proprio capire i cambiamenti di questi zuccheri, questi zuccheri complessi che ci sono sulla superficie cellulare. E se io vado a guardare diciamo in una cellula normale, quindi diciamo una cellula che sta bene, vedo che questi zuccheri hanno una certa distribuzione, una certa complessità e contengono anche un componente che è l'acido osialico. Tuttavia se io appunto sono davanti a una cellula malata e questo ripeto può essere diversi tipi di malattia, quindi un'infiammazione, una malattia patologica ma anche il cancro, vedo che la complessità di questi zuccheri cambia e soprattutto vedo che questo acido osialico è distribuito in maniera completamente diversa e in maniera molto più complessa sulla superficie delle cellule cancerogene. Quindi diciamo la sua prima intuzione è stata bene se io riuscissi a marcare, a vedere, a mappare questi zuccheri complessi potrei essere in grado di capire a che stadio è la malattia ed eventualmente come curarla. Ma come voi immaginate diciamo andare a guardare, a visualizzare questi zuccheri non è banale perché contrariamente alla proteina dove noi possiamo esprimere una proteina fluorescente che è stato un altro premio Nobel nel passato, nel caso degli zuccheri, gli zuccheri si formano per via metabolica quindi non posso usare i geni per esprimere una proteina. Quindi quello che lei ha pensato è stato diciamo una via alternativa che è geniale ed è sintetizzato in questo lucido che ho preso proprio dal suo discorso del premio Nobel perché loro hanno immaginato che cosa di utilizzare uno dei componenti, uno zucchero artificiale che avesse appunto un gruppo funzionale che non andasse a interferire col metabolismo degli zuccheri. Ovviamente una volta internalizzato dentro la cellula questo zucchero andrà a far parte della catena per formare gli zuccheri di superficie, quindi glicani complessi, ma ovviamente si porterà dietro questo diciamo marchio, questo tag, questa possibilità di essere funzionalizzato successivamente. E' proprio qui diciamo l'innovazione, di essere riuscito a capire quale reazione potesse essere utilizzata per poi far reagire questo mio X in maniera ortogonale, quindi solamente e solo con un gruppo complementare che mi portasse una luce, che mi portasse un reporter, che mi potesse fare vedere la superficie, quindi gli zuccheri di questa cellula. Questo è un lavoro bellissimo pubblicato su Science nel 1997 e ovviamente la prima domanda è ma che gruppo è questo X e questo Y, che cosa posso usare per fare questa reazione? E anche qui il lavoro dell'Abertozzi è stato molto influenzato dalla chimica tedesca. Vi dicevo prima appunto al secondo anno conobbe un tedesco, subito dopo si rifece al lavoro bellissimo di Rolf Hausgen che ben nel 1963 aveva pubblicato questa reazione. Adesso non voglio entrare nella chimica, non penso che sia il caso, ma questa è una reazione molto interessante perché voi vedete tra due gruppi completamente diversi, questo gruppo si chiama Zide, questo è un alchino, e quello che succede è che la reazione procede per fare questa molecola, quindi diciamo è una reazione dove i componenti possono reagire solo A con B e non A con A o B con B. Ma il problema di questa reazione per lei era che questa reazione è troppo lenta, cioè non le andava bene in cellula, se io devo aspettare delle ore ci sono decine di processi che possano avvenire. E in suo aiuto venne il suo collega e premio Nobel, anche lui nel 2022, oltre ad aver già avuto un premio Nobel nel 2001, che è Sharpless. E Sharpless ha inventato una chimica che appunto viene detta in italiano chimica scatto o click chemistry che prende spunto appunto da questa reazione, ma che fa sì che i componenti in questo caso possano reagire in maniera molto veloce e molto efficiente. Quindi ho immaginato in realtà di prendere una Zide terminale, è un alchino, vedete, terminale, e proprio la chiamiamo a scatto o click perché uno immagina proprio con un po' la cintura di sicurezza degli aerei, cioè questi due composti si uniscono tra di loro per formare un legame covalente in maniera molto veloce e molto efficiente e quindi vanno a formare un composto chimico che si chiama triazolo. E la cosa interessante, vedete, è che se ogni molecola, ogni componente, si porta, diciamo, un bagaglio, un'informazione, è chiaro che la molecola finale manterrà entrambe le informazioni. Ma vorrei farvi notare una cosa in questo lucido, anche per i non chimici, che se uno va a guardare in realtà la reazione richiede la presenza di uno ione che si chiama rame e questo ione rame è importante perché serve proprio per far sì che la reazione avvenga in tempi relativamente brevi, quindi ha un effetto sulla cinetica di questa reazione ed è un catalizzatore. Ma capite bene che a questo punto noi abbiamo un problema perché dobbiamo immaginare una click senza rame, perché come faccio io ad entrare col rame 1 all'interno delle cellule? Impossibile. E qui interviene appunto l'Abertozzi. L'Abertozzi sviluppa tutta una serie di molecole dove in realtà l'alchino che vedete prima, che vedete prima, quel sistema col tripolo legame, non è terminale ma è stato inserito all'interno di un sistema ciclico che ha una fortissima tendenza ad aprirsi perché è un sistema costretto a stare, a ciclizzarsi. Quindi diciamo c'è un impedimento di costrizione di questo tripolo legame che fa sì che questo tripolo legame diventi così reattivo che in presenza di una zide io non ho bisogno di un catalizzatore. Quindi posso eliminare questi ioni in rame e quindi posso immaginare a questo punto di far avvenire la reazione che aveva fatto Sharpless senza rame. Quindi una reazione click anche qui dove io posso unire due componenti biologici, un componente biologico è un label, nel caso della Bertozzi, quindi di un reporter, in modo tale da poter provvedere appunto a funzionalizzare i miei zuccheri sulla superficie. A questo punto vorrei saltare la parte cellulare ma vorrei farvi vedere che appunto si è potuto passare da questa reazione fatta prima ovviamente nella beuta e poi in cellula fino ad arrivare agli organismi viventi. Il primo organismo vivente che la Bertozzi ha studiato sono proprio i pesci zebra, i zebrafish, che sono sistemi molto interessanti perché pur nella loro semplicità sono molto più complessi ovviamente di una cellula, e la cosa interessante dei pesci zebra è che loro si formano da un unico uovo e si sviluppano diciamo dentro questo uovo, vedete le cellule si dividono, si dividono e in poche ore piano piano si comincia a formare il pesce. Quindi c'è la possibilità di seguire in maniera dinamica ma temporale l'evoluzione diciamo di questo organismo complesso. Cosa ha fatto quindi la Caroline? Ha pensato ovviamente di partire diciamo nel momento in cui l'uovo fecondato comincia a dividersi e ha fatto quello che vi ho mostrato nel cartone animato, cioè ha inserito all'interno della cellula questo zucchero che era stato funzionalizzato con questo gruppo funzionale che in questo caso vedete l'N3, la zide, e che non interferisce con lo sviluppo dell'animale, quindi può tranquillamente diciamo essere internalizzato e andrà ovviamente a costituire poi lo zucchero della superficie cellulare. Quindi alla fine sulla superficie noi ci ritroveremo questo gruppo funzionale che sarà in grado di reagire con un label fluorescente, quindi con un marcatore fluorescente che contiene il triplo legame che vi ho mostrato prima. Quindi è possibile in questo punto agganciare la mia lampadina che mi consentirà di visualizzare questi zuccheri sulla superficie dell'animale. Ma questo si può fare, come vi dicevo prima, a diversi stadi. Quindi io lo posso immaginare già quando ho ancora un paio di cellule, ma ovviamente posso continuare la reazione man mano che l'organismo si sviluppa. Quindi posso immaginare, per esempio, che se qui ho messo un marcatore verde posso far sì che aggiungendo sempre il mio zucchero iniziale con la mia a zide posso aggiungere un marcatore rosso. Quindi negli stadi che procedono con il tempo posso avere marcatori fluorescenti diversi. E qual è in realtà il risultato finale? Il risultato finale è spettacolare, perché voi vedete lo zebrafish, dopo poche ore di formazione, che è assolutamente fluorescente e ogni colore rinchiude lo stadio della funzionalizzazione che ha fatto direttamente sulle cellule del pesce. Quindi è un risultato meraviglioso dove si vede questa evoluzione diciamo temporale vista appunto con i colori dei marcatori fluorescenti. Quindi è chiaro che a questo punto uno si può chiedere ma posso immaginare che questa situazione di marcatura e quindi diciamo la possibilità di capire come si mappano gli zucchi ed eventualmente l'acido osialico possa essere utilizzato anche per una terapia contro il cancro. E la risposta è sì. Caroline Bertozzi ha infatti fondato una ditta molto famosa che si chiama Pallion Pharmaceuticals perché ben presto ha capito che questi acidi sialici non solo diciamo modificavano la cellula ovviamente sulla superficie essendo una cellula cancerogena ma soprattutto impedivano al sistema immunitario di riconoscere la cellula tumorale. Quindi in qualche modo questi acidi sialici facevano sì di imbrogliare il sistema immunitario in modo tale che il sistema immunitario non attaccasse le cellule cancerogene. Quindi quello che le ha fatto e non voglio entrare nell'immunologia anche perché non è il mio campo e non sarei capace è di disegnare un farmaco che è basato su un anticorpo e in questo caso è un anticorpo abbastanza noto che riconosce le cellule cancerogene al quale è stato però collegato un enzima in grado di degradare questi zuccheri questo acido sialico. Cosa succede a questo punto? Lo capite bene che nel momento in cui io degrado lo zucchero il sistema immunitario è in grado di riconoscere la cellula tumorale quindi è in grado di attaccare il tumore e quindi si ha questo effetto sinergico tra il riconoscimento diciamo del tumore e l'enzima. e su questo studio sono già in fase clinica in realtà sull'uomo quindi questo farmaco è già in fase clinica. A questo punto è chiaro che lo sviluppo di questa chimica ha avuto un successo strabiliante perché voi capite bene che io vi ho fatto solo questo esempio dello zucchero ma potete immaginare che qualunque materiale biologico qualunque molecola biologica può essere sottoposta allo stesso trattamento quindi io posso immaginare di fare una chimica ortogonale è una click chemistry per esempio sui lipidi o sugli acidi nucleici o sulle proteine quindi c'è un'esplosione diciamo di questo tipo di chimica che sta interessando tutte le parti del mondo tra cui anche il nostro paese. A questo punto vorrei collegarmi del perché dicevo all'inizio questo lavoro è stato di ispirazione anche per noi e senz'altro lo è tutt'oggi e quello che non vi ho detto è durante diciamo questi primi minuti è come diciamo facciamo a labellare questi questi glicani e soprattutto che cosa usiamo per vedere questi colori meravigliosi che vi ho fatto vedere nella foto di prima quindi se facciamo un passo indietro dobbiamo pensare a come facciamo a vedere le cellule e per coloro che non sono diciamo chimici o fotochimici in realtà il sistema è molto semplice quello che si utilizza non è altro che una molecola fluorescente che a caso di un'eccitazione fotonica viene portata allo stato eccitato o scusate e quindi diciamo è possibile avere un rilassamento allo stato fondamentale per via radiativa quindi con l'emissione di luce e ovviamente questa luce dipenderà dalla chimica di questa molecola dalla sua struttura chimica quindi vedete qui in questa diapositiva tutti i colori che io voglio utilizzare per esempio per mercare le cellule che erano poi i colori che vi ho fatti vedere prima di solito si usano ovviamente colori nel visibile quindi il verde il giallo l'arancio il rosso il vicino il infrarosso e questo vale diciamo sempre cioè tutti i biologi sanno benissimo che se io voglio marcare il nucleo di una cellula per esempio uso una molecola quale il dapio l'öst se voglio marcare la membrana uso un altro tipo di molecole e così via però c'è un problema e il problema è che molto spesso queste molecole che noi chiamiamo DAI tipo la fluoresceina hanno un'enorme tendenza ad aggregarsi in acqua e quando questo accade purtroppo vedete la loro fluorescenza diminuisce fino a sparire quindi questo è un problema enorme di solito si usa una piccolissima quantità di marcatore proprio per evitare questo problema dell'aggregazione ma recentemente è stato visto in particolare questo è il lavoro di Benson Tang e Bin Liu a Singapore e Bin Song Tang e Hong Kong è stato visto che delle molecole che sono piuttosto complesse vedete dove c'è la possibilità di ruotare questi anelli intorno a un anello centrale hanno esattamente il comportamento opposto cioè in acqua per esempio o in un solvente loro non emettono nel momento in cui si aggregano cominciano ad emettere questa è stata chiamata aggregation induced emission che vuol dire appunto che questa emissione è generata proprio dall'aggregazione cioè il processo contrario che noi studiamo sui libri normalmente e da qui diciamo è iniziato il nostro lavoro perché tra le molecole che noi siamo andati a guardare siamo andati a guardare anche delle molecole di interesse biologico voi tutti sapete che il cisplatino e i complessi di platino sono in realtà anche dei farmaci quindi non sono soltanto interessanti da un punto di vista spettroscopico ma sono anche interessanti per delle terapie quali il cancro e tra le molecole che siamo andati a studiare questo è uno dei composti che viene dal nostro laboratorio è un composto dove vedete c'è un atomo di platino e uno ione platino 2 che è coordinato a questo legante tridentato e poi c'è un quarto vedete elemento dove io posso in realtà modulare la solubilità di questo composto quindi quello che succede è che se io vado a guardare questo composto in realtà lui è un surfattante cioè ha una parte idrofobica che odia l'acqua e una parte idrofilica che ama l'acqua e voi sapete bene perché il covid ce l'ha insegnato grazie ai liposomi che tutti i surfattanti tendono ad aggregare in acqua quindi tenderanno ovviamente ad aggregarsi in modo tale che se io sono in un solvente organico io posso solubilizzare il platino quindi avrò l'emissione classica di questo complesso ma nel momento in cui aggiungo dell'acqua il platino tenderà a nascondersi dall'acqua ad aggregarsi e a dare un'emissione di un colore diverso non voglio entrare nei dettagli spettroscopici ma questo è legato diciamo alla interazione elettronica tra le unità di platino e quindi alla distanza tra i complessi metallici la cosa bella è che appunto questa differenza di colore è enorme cioè io passo da un composto vedete che mette nel blu a un composto che mette nel rosso quindi questo shift è gigantesco quindi senza fare nessun tipo di analisi io so già che la mia molecola sia aggregata oppure è solvatata in quelle condizioni ma la cosa bella appunto della spettroscopia e dell'imaging che ovviamente la Bertossi ha approfondito per motivi biologici è che in realtà può essere vista con un sistema molto semplice cioè io posso guardare come le molecole si aggregano in un microscopio e uno dei miei ex studenti che adesso è professore a Padova Alessandra Liprandi ha fatto proprio questo cioè ha fatto vedere essenzialmente come queste piccole molecole di platino si aggreghino tra di loro per dare delle strutture anche grandi e vi faccio vedere questo filmino perché è bellissimo per la prima volta voi potete vedere in una soluzione come le molecole si aggregano tra di loro e vedete una cosa interessante che all'inizio partono dei pallini rossi poi partono queste strutture verdi e alla fine si formano queste strutture blu cioè vuol dire che in realtà questo sistema sta evolvendo da una struttura a un'altra fino al sistema termodinamicamente stabile che è appunto la struttura blu alla fine il blu vincerà su tutto perché come in natura tutto va verso l'equilibrio quindi tutto va alla forma termodinamica più stabile se io cambio le condizioni disolventi posso seguire una cinetica che è completamente diversa e vedete che adesso questi pallini rossi spariscono in pochi secondi e piano piano appunto il campo viene dominato da questa forma questa struttura aggregata di colore blu che mette luce di colore blu a scapito vedete del colore verde quindi la struttura verde è quella che noi chiamiamo struttura transiente cioè non la possiamo isolare e analizzare da sola è una struttura che vive pochissimo tempo perché immediatamente evolve verso l'equilibrio quindi non possiamo stabilizzarla questa è una cosa molto bella perché ci porta a dire ma questi colori da che cosa sono dovuti allora è chiaro che se uno vuole andare nel dettaglio deve leggersi il lavoro su Nature altrimenti solo in breve vi posso dire che ovviamente nella struttura blu il platino è quasi isolato cioè non interagisce con altri complessi di platino per un'interazione platino-platino nella struttura verde vedete l'interazione è già forte però i complessi sono lontani tra di loro 3,6 angstrom nella struttura rossa quindi quella più bassa energia vuol dire che i complessi sono molto vicini tra di loro cioè il sistema è molto compatto queste molecole tendono ad avvicinarsi tanto e vi voglio raccontare un piccolo aneddoto a questo punto perché quando noi abbiamo mandato questo lavoro su Nature abbiamo avuto dei commenti molto molto positivi e l'editore ci ha chiesto di disegnare la cover del fascicolo ed era il momento in cui era uscito il film Star Wars io sono una grande appassionata di film in particolare anche di film fantascienza e se qualcuno ha visto Star Wars forse avrà visto una cosa interessante che c'è Yoda con la spada verde il buono ovviamente Lucas con la spada blu il cattivo Dark con la spada rossa che sono esattamente i colori che io vedo diciamo nell'evoluzione del mio sistema e quindi ho suggerito questa cover che mi sembrava molto carina dove Yoda aveva appunto la spada verde a combattere con tutti gli altri sistemi in realtà l'editore è stata molto più conservatore mi confesso per cui la cover non è quella ma è questa e mi dispiace deludervi quindi non c'è nessun riferimento a Star Wars tuttavia devo dire mi ha fatto piacere vederla a questo punto uno si può chiedere ma questo sistema verde può essere stabilizzato cioè posso immaginare da chimico da chimico dei materiali di stabilizzare un sistema che è fuori dall'equilibrio e portarlo per esempio in cellula e farlo reagire è chiaro che all'inizio questo era un sogno ma nel mio laboratorio noi sviluppiamo dei piccolissimi contenitori che ci servono per fare il drug delivery quindi questi contenitori che sono nanoscopici 10-20 nanometri possono intrappolare delle molecole all'interno e noi abbiamo pensato che forse erano in grado di intrappolare diciamo questi aggregati quindi di stabilizzare una forma che normalmente quasi non esiste in soluzione perché è transiente sparisce e questi contenitori che vi volevo fare vedere senza andare nel dettaglio sono proprio queste strutture di silica dove in realtà la silica non è proprio silica cioè non è un'alternanza di silice-ossigeno ma contiene dei gruppi funzionali che sono in grado di degradarsi di spaccarsi all'interno delle cellule quindi noi li distruggiamo una volta che loro rilasciano il farmaco e quindi possiamo eliminarli ma non voglio parlarvi di questo oggi vi voglio parlare però di questo contenitore perché questo contenitore è in grado in realtà se vi faccio vedere meglio la struttura di far sì che queste strutture di platino possano entrare attraverso questi buchi e il buco centrale che è circa 11 nanometri può quindi contenere molte di queste molecole di platino e le costringe a stare insieme perché non c'è abbastanza spazio c'è un confinamento di questo sistema ma se c'è un confinamento cosa succede allora? Succede che in realtà questa specie che per me era transiente a questo punto non può più evolvere perché è costretta a stare insieme alle altre molecole finché io non distruggo questi contenitori o non riesco a rilasciare il contenuto ed è quello che abbiamo fatto e abbiamo visto anche che in realtà vedete mentre il sistema libero in soluzione vive al massimo un'ora un'ora e mezza il sistema confinato all'interno dei nostri contenitori vive dei giorni e questo è meraviglioso perché vuol dire che è una specie molto instabile molto reattiva che in qualche modo posso utilizzare per fare delle reazioni e qui entra di nuovo l'ispirazione di Bertozzi perché quello che abbiamo fatto è internalizzare questi contenitori con queste specie fuori dall'equilibrio all'interno delle cellule e capite bene che all'inizio vedete solo questi puntini gialli perché diciamo il sistema è ancora confinato all'interno di questi contenitori ma dopo sei ore quando il contenitore si rompe e quindi questo sistema si rilascia il sistema andrà a reagire immediatamente perché finalmente è libero di raggiungere l'equilibrio e quindi andrà a fare una polimerizzazione all'interno della cellula e questo polimero appunto che sono queste fibre blu può avere delle conseguenze biologiche anche molto serie e quindi anche qui diciamo c'è questo collegamento forte con la Caroline che mi piace diciamo menzionare e ovviamente a questo punto ci siamo chiesti ma non possiamo fare tutto direttamente in un sistema vivente cioè non possiamo immaginare che invece di incapsulare questi complessi di platino io glieli do da mangiare all'animale e vedo che cosa succede e l'animale che vi voglio mostrare è un animale un po' particolare un animale molto semplice che è l'idra l'idra vulgaris che in realtà è un piccolo polipetto di acqua dolce che ha queste branchie diciamo ma la cosa bella è che è completamente trasparente quindi in realtà se io formassi questi sistemi luminescenti li potrei vedere ad occhio nudo perché tutto il sistema si colorerebbe voglio dirvi due parole sull'idra anche se io non sono un biologo marino però né un biologo in generale l'interesse per l'idra soprattutto da parte dei biologi nasce dal fatto che questo animale ha delle enormi proprietà di rigenerazione ed è studiato proprio per questo motivo cioè se io taglio le branchie di questo animale le branchie ricrescono e questo è un interesse importante perché voi capite bene che in qualche modo deve produrre un certo numero di stem cell per far sì che le branchie ricrescono ed è uno dei motivi per cui è tanto studiato proprio per questa sua capacità rigenerativa e anche per il fatto che si può riprodurre sia sessualmente che asessualmente detto questo vi devo dire un attimo di biologia cellulare perché vi devo dire dove sono queste cellule staminali in realtà se io vado a guardare diciamo l'animale dentro e fuori vedete che all'interno diciamo io ho un certo tipo di cellule e poi all'esterno ho degli altri tipi di cellule e proprio diciamo questa capacità di rinnovarsi di differenziarsi è in delle cellule che si chiamano nematociti quindi all'interno di questo animale detto questo in bioniera brevissima e vorrei ringraziare in questo punto la collaborazione con Claudio Tortiglione del CNR e dei Pozzuoli vi racconto che cosa succede nel momento in cui io do da mangiare questi complessi di platino all'animale è chiaro che la prima cosa che devo fare da chimico devo rendere il complesso solubile in acqua e soprattutto devo assicurarmi che non è tossico altrimenti ammazzo l'animale quindi per solubilizzarlo ho modificato la struttura chimica questo non è rilevante quello che è rilevante è che questi complessi appunto in acqua danno una breve aggregazione vedete hanno un'emissione nel rosso quindi io sono sicura che se loro si aggregassero li dovrei vedere perché emetterebbero luce giallo-arancio intorno a 600 nanometri e vediamo intanto se sono tossici perché la prima cosa che uno fa ovviamente dà dosi diverse all'animale per capire se io sto uccidendo l'animale a causa del platino o no e ve lo faccio vedere in maniera grafica perché secondo me è molto bello vedete in cima l'animale non trattato dopodiché vedete appunto il suo sviluppo dopo 48 ore e 72 ore e questa è la quantità di platino che abbiamo inserito all'interno dell'animale che è già una quantità molto elevata a 10 micromolare o addirittura a 20 micromolare e quello che notate anche diciamo visivamente è che l'animale si sviluppa in maniera regolare se io aggiungo troppo composto comincio a influenzare le capacità di questo animale di svilupparsi e soprattutto eventualmente lo conduco alla morte quindi questo ci interessa perché dobbiamo sapere quanto di questo composto io devo dare all'animale e qua vi faccio vedere invece che cosa succede nel momento in cui io do questo composto all'animale questo è soltanto il 20 micromolare che avete visto prima e vedete una cosa molto bella che l'animale si accende si accende perché ovviamente a questo punto il composto non rimane diciamo isolato all'interno dell'animale ma si aggrega all'interno dell'animale soprattutto si aggrega sulle branchie in maniera particolare ma se uno studio cellulare ci ha fatto vedere che penetra in diversi tipi di cellule cioè il complesso di platino in se stesso non ha una preferenza verso delle cellule o delle altre ma al di là di fare imaging che già di suo è una cosa molto bella perché è un imaging diciamo in vivo uno si può chiedere ma quanto platino c'è dentro cioè posso immaginare di calcolarlo è ovvio che la risposta è sì uno può fare un'analisi di massa quindi può determinare il peso in grammi in nanogrammi in questo caso di platino e quindi sa quanto platino c'è quanto se ne è mangiato l'animale perché noi lo mettiamo nell'acqua non lo diamo e la cosa che abbiamo immediatamente notato o comunque il mio studente che era a Napoli a fare gli esperimenti con i biologi ha notato è stata una cosa spettacolare e quello che abbiamo notato è che questa è la crescita diciamo dell'animale non trattato vedete la curva blu e si vede chiaramente che fino ai primi tre giorni l'animale è un uovo cioè non si differenzia non forma le branchie niente ma nel momento in cui io lo tratto con il complesso già dal primo giorno comincia a svilupparsi e qua c'è qualcosa che non va cioè com'è possibile che io gli do da mangiare una cosa potenzialmente tossica e invece diciamo di ammassare l'animale lo sviluppo prima cioè è un po' giocare quasi diciamo a fare il dio quindi cioè tutti questi dati eravamo molto sorpresi li abbiamo ripetuti decine di volte finché non ci siamo resi conto che in realtà questo complesso non solo si aggregava ma durante l'aggregazione modificava i processi biologici all'interno dell'animale e in particolare modifica una cosa molto importante che è la produzione di cellule staminali cioè è in grado di triggerare una produzione di cellule staminali non normale quindi diciamo una volta che il complesso di platino si aggrega cambia il suo potenziale di riduzione agisce su degli enzimi che sappiamo esattamente quelli che sono e la cosa importante appunto è che fa sì che queste cellule staminali vengano prodotte in maniera molto più elevata che in assenza del complesso sono circa il 30% in più quindi una quantità veramente misurabile a questo punto ovviamente i biologi erano scioccati da questo esperimento e hanno deciso di fare della trascrittometria trascrittometria quindi di capire qual è il gene che regola tutto ciò cioè chi è responsabile di questa proliferazione delle cellule staminali è il gene è un gene molto importante perché è un gene che esiste anche nell'uomo si chiama IMIC1 ed è un gene che in realtà proprio può regolare la produzione di cellule staminali quindi quello che si è visto è in realtà che nell'animale non trattato vedete questa è la quantità di solito che si produce questa è la diciamo reattività su questo gene e nell'animale trattato ma anche a piccolissime quantità di platino c'è una sottoregolazione di questo gene e questa sottoregolazione fa sì che il gene promuova questo processo biologico a questo punto eravamo tutti abbastanza sconvolti e abbiamo deciso di guardare cosa succede a livello enzimatico cioè come questa aggregazione possa comportare una reazione biologica di altro tipo e quello che abbiamo visto è che in realtà sia sul dismutarsi che su altri tipi di reazioni enzimatiche la presenza del platino modifica totalmente l'azione enzimatica quindi promuove diciamo un'azione enzimatica che è molto simile a quella di un forte riducente cioè come se noi avessimo dato alla cellula un fortissimo antiossidante per cui diciamo l'animale reagisce in maniera positiva e questo si è visto confrontando appunto il materiale non trattato con quello trattato con dei riducenti che si usano in biologia e si vede che lo stesso tipo di sistema vedete di modifica diciamo cellulare si ottiene anche col nostro platino quindi in presenza del platino c'è un disordine diciamo di queste cellule di queste batteri cell che sono proprio regolate da questo potere riducente del materiale è chiaro che quello che vi sto dicendo è abbastanza sconvolgente noi siamo i primi a essere abbastanza sconvolti e quindi la prima cosa che abbiamo fatto è ma è possibile farlo solo in questo animale che è l'idra o posso immaginare anche degli altri tipi di animali e per stare sempre in un animale diciamo trasparente siamo andati a guardare gli anemoni di mare che sono molto diversi dall'idra perché si formano in maniera diversa si formano in maniera simile allo zebrafish cioè praticamente si parte da un uovo che poi piano piano forma diciamo l'animale finché l'animale adulto forma le branchie come vedete qui in questo cartone a questo punto ci siamo chiesti ma allora questa nematostella è anche questa influenzata dal platino c'era qualcosa nell'idra che non sappiamo e la risposta è sì e si vede anche ad occhio perché non c'è bisogno di andare a guardare diciamo tutta l'attività enzimatica ma basta guardare le foto dell'animale non trattato dopo sei giorni dove ancora ovviamente non si sono formate le branchie è l'animale trattato col platino le branchie sono già formate cioè c'è questa enorme capacità rigenerativa dell'animale anche in questo caso quindi a questo punto siamo qui dove vi sto raccontando siamo ovviamente molto eccitati da questi risultati perché sono risultati importanti e speriamo di capire anche in più se possiamo a questo punto sostituire il platino con qualcosa più simile a un sistema biologico cioè una molecola che sia più biocompatibile e soprattutto capire qual è il meccanismo di questa rigenerazione per poi portarla sugli animali vertebrati quindi pensare a qualcosa che si possa dare agli animali vertebrati per stimolare questa capacità rigenerativa e con questo vorrei concludere perché ho promesso di lasciare un po' di minuti per le domande e le mie conclusioni non sono scientifiche devo confessare sono devo dire delle conclusioni che vengono fuori un po' dalla mia esperienza anche io sono stata molto all'estero quasi tutta la mia carriera universitaria e la cosa interessante per me è questa interfaccia tra le discipline io sono nata nel gruppo di un socio dell'Accademia degli Incei che è il professor Balsani sono nata come uno spettroscopista e ovviamente come avete capito dal mio talk mi sono molto allontanata dalla spettroscopia anche se la utilizzo come metodo di investigazione ma la cosa per me interessante è lavorare all'interfaccia tra le discipline e penso che questo sia una cosa importante un messaggio soprattutto per i giovani che la comprensione di altre discipline è essenziale per allargare gli orizzonti la mia ricerca è sempre stata guidata dall'immaginazione così come quella di Carol Inbertozzi e di molti altri scienziati e soprattutto bisogna stimolarla questa immaginazione e mi dispiace dirlo che in Italia la cultura scientifica non esiste o comunque molto scarsa c'è una forte cultura letteraria una forte cultura classica ma c'è pochissima cultura scientifica e forse questa accademia dovrebbe anche promuovere questa cultura scientifica e quello che vorrei anche dire è che i giovani vanno via che è giusto che vadano via ma non tornano e questo è un problema dobbiamo in qualche modo trovare un modo per fare ritornare le persone nel nostro paese che è un paese meraviglioso io sono felice di essere tornata con questo vorrei ringraziare il mio gruppo è un gruppo molto internazionale metà stranieri e metà italiani vorrei ringraziare anche le nostre collaborazioni come vedete solo un paio che sono quelle discritte nel mio lavoro ma in realtà collaboriamo con tanta gente e vorrei ovviamente ringraziare chi ha creduto nelle nostre capacità e ci ha dato i soldi in particolare l'European Research Council con l'Advance Grant l'AIRC la Fondazione del Cancro o varie industrie la comunità europea che ci supporta devo dire in maniera molto generosa e ovviamente vorrei ringraziare tutti voi per la vostra attenzione per essere qui con me grazie applausi grazie a tutti 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 grazie a tutti